Previsioni per oggi, al mattino, al nord, banchi di nebbia, al centro, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti, al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni, al centro, schiarite alternate nubi sparse, al sud, schiarite alternate nubi sparse. Previsioni per domani, al mattino, al nord, banchi di nebbia, al centro, soleggiato con poche nubi, al sud, poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, al nord, del tempo con cieli sereni o velati, al centro, soleggiato con poche nubi, al sud, soleggiato con poche nubi.